Ho vissuto una campagna elettorale straordinaria, grazie a voi che mi avete accolto dovunque, in ogni angolo di Lombardia, con affetto, con calore, con sostegno. Mi avete fatto incontrare gente vera, gente che si dà da fare, che si batte per salvare il lavoro, per salvare le proprie aziende, che sia imprenditore, artigiano, commerciante o che sia lavoratore dipendente, tecnico. Ho incontrato dei giovani straordinari, che credono nel futuro da costruire insieme. Ho incontrato degli anziani e delle persone che hanno una straordinaria dignità, che vogliono continuare a rendere ancora più forte la nostra convivenza e la nostra regione. Ho incontrato comuni, piccoli e grandi, province, comunità montane, gente che si impegna nel volontariato, gente delle associazioni, che costruisce senza posa nel campo dell'educazione, dell'assistenza, della vicinanza ai cittadini. E mi sono convinto sempre di più che il metodo della sussidiarietà, della vicinanza a quello che voi fate, è il metodo giusto. Un governo, quello regionale, che riconosce lo straordinario valore dei propri cittadini. Sì, guidare la Lombardia è veramente di più che guidare una Ferrari e guidare un'astronave. Voi siete i protagonisti di questo straordinario cammino. Portiamoli tutti a votare, per difendere quello che abbiamo costruito per rendere la nostra regione sempre più protagonista nel mondo.